Musica Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Giovanni Reina nella sua versione Shapeshifter Mi raccomando come sempre questa serie in collaborazione con i ragazzi di The Street Trovate i link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram Di lasciare un bel like e iscrivervi al canale Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi Let's go! Partiamo come di consueto dal costo che si aggira attorno ai 160.000 crediti su Play 190 su Xbox, 185 invece su PC Per un giocatore con 5 stelle skill, 4 stelle di piede debole Upgridato dal 4.2 della versione precedente E work rate alto normale Per quanto riguarda il fisico abbiamo 1,85 di altezza 79 kg e body type High and average I piede d'abilità comunque secondo me accettabile Molto buona per il fatto che abbiamo una squadra di appartenenza con molteplici link In un ruolo secondo me interessante come quello di alla sinistra Link per esempio a Schmelzer Link possibile a un guerrero centrocampista Mettete uno dei due a 7 E avete il link anche a quello terzino A Bellingham e così via Tanti sono i link per andare ad utilizzare appunto questo Reina Magari qualche link pazzo con la nazionalità può venire fuori Ma secondo me principalmente si va a linkare o in una Bundesliga Oppure utilizzando il link del Bursa Dortmund Per quanto riguarda il camisital più consigliato Personalmente andrei a consigliare comunque un motore Per andare a aumentare la velocità Il passaggio e comunque il dribbling Specialmente l'equilibrio Possibile anche l'utilizzo magari di un regista Per andare ad aumentare il tiro Nel caso magari lo utilizziate in posizione un po' più centrale Magari come seconda punta In quel caso potrebbe starci maggiormente quello di regista A livello di caratteristiche questo Reina Dove lo andrei ad utilizzare E che tipo di giocatore è lo statunitense A livello di caratteristiche avrete ben capito Che è un giocatore molto forte dal punto di vista fisico E secondo me può essere utilizzato comunque esterno Non lo utilizzerei centrale per la mobilità nello stretto Per il fatto che appunto non sia proprio il beingheader della situazione Nel caso siate abituati a questo livello di giocatore Non lo metterei appunto trequartista per il passaggio lungo Che secondo me è una grossa pecca di questo Reina A livello di passaggio ci siamo Visione, passaggio corto, effetto assolutamente positivi Il passaggio lungo infiecia tutto Per cui non ve lo consiglio come trequartista Secondo me non ha reso al 100% andandolo ad utilizzare in quel ruolo Ve lo consiglio maggiormente come esterno Come quella tipologia di esterno appunto molto forte dal punto di vista fisico Abbiamo un 93 di forza con 1,85 di altezza Quindi tiene testa molto bene Ha i terzini particolarmente forti dal punto di vista fisico È comunque agile Rispetto alla versione 87 Questo Giovanni Reina ha una mobilità 10 volte superiore Per il fatto che abbiamo comunque un più 7 di agilità Un più 12 di equilibrio E un più 11 di reattività Questi valori comunque con questo upgrade si sente totalmente Ovviamente come detto prima non aspettatevi il Ben Yedder, Rodrigo, Vinicius Quei giocatori che sgusciano via così facilmente Con cui vi potete muovere 754 volte nello stretto Questo Giovanni Reina ha una buona ampiezza a livello di mobilità nello stretto Ha anche un'ottima mobilità per il fisico che ha E ha un'ottima protezione del pallone per il fatto che abbia 93 di forza fisica Un body type high and average Se vi mettete a proteggere palla Specialmente nel ruolo dove ve lo consiglio Ovvero quello di esterno Trova dei giocatori che possano riuscire in qualche modo a scalzarlo Anche a livello di tiro comunque molto buono Specialmente dalla distanza Magari rientrando sul destro ci può calciare benissimo A livello di precisione delle skill Assolutamente ci siamo Avendo 5 stelle skill e avendo comunque 99 In controllo palla e dribbling Secondo me è particolarmente divertente Ma anche particolarmente preciso appunto nell'utilizzare le skill Una piccola nota dolente all'interno del tiro È la finalizzazione Dove non abbiamo un giocatore che sicuramente è tanto atto a finalizzare l'azione Principalmente con lui andrà a tirare O di potenza da dentro aree di rigore La cosa principale per andare ad utilizzare questo Reina Andando al tiro Oppure rientrare e calciare dalla distanza Secondo me è un risultato molto più impattante a livello di tiro dalla distanza Che a livello appunto di vera e propria finalizzazione A livello di stamina ci siamo Secondo me le 3 pack principali di questo Reina Sono la finalizzazione Mai arrivati a questo punto del meta Ci sono tanti giocatori che finalizzano maggiormente rispetto appunto ai giocatori statunitense Il passaggio lungo che non gli permette di essere messo come trequartista E un pochettino la mobilità nello stretto Secondo me però è dato tanto dalle caratteristiche appunto Del giocatore del Borussia Dortmund Arrivando a giudizio su questo Giovanni Reina Cosa ne penso? Lo consiglio? Non lo consiglio? A mio modo di vedere Si può essere consigliato Andando a vedere anche le alternative che ha questo Reina All'interno della Bundesliga Personalmente lo posso ritenere tranquillamente il migliore esterno Trequartista esterno Comunque un punto esterno offensivo del campionato tedesco Se andate a ricercare magari una full Bundes Ci può assolutamente stare Secondo me è il giocatore più indicato Per essere messo a sinistra O andate magari ad adattare il diabì della situazione Però personalmente questo Giovanni Reina Secondo me è un po' superiore ormai al giocatore francese Dal momento che fisicamente regge molto meglio le spallate di giocatori Che circolano in fase difensiva attualmente Varita Hernandez, Hakimi, Koulibaly, Van Dijk e così via Questo Giovanni Reina resiste molto meglio Quindi per me può essere tranquillamente consigliato Come voto gli do un 9 Per il fatto che abbia anche un ottimo rapporto qualità prezzo Secondo me anche al di fuori comunque di una Bundesliga Nel caso riusciate magari a linkarlo Nel caso abbiate anche Guerreiro Oppure lo Schmelzer della situazione Può essere molto utile secondo me Andarlo ad utilizzare magari sia per linkare appunto il terzino Oppure il centrocampista Che anche appunto questo Giovanni Reina E avete sistemato il terzino e l'esterno Può essere una soluzione molto interessante A livello di rendimento in game Mi ha soddisfatto E comunque ripeto anche secondo me Il rapporto qualità prezzo Ci può assolutamente stare Positivo anche il rendimento in game L'ibridabilità secondo me ci può stare La possiamo promuovere Arrivati ormai a questo punto del meta Con tutti i giocatori magari Del Borussia Dortmund O di una Bundesliga Ci può assolutamente stare Per cui ripeto Voto 9 per il fatto Che sia il miglior esterno sinistro Tranquillamente di Bundesliga E voi cosa ne pensate? Siete raccordi? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Dopo aver lasciato un bel mi piace Esservi iscritti al canale Ed aver attivato la campanella Per restare sempre aggiornati Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di The Street Trovate i link in descrizione Con questo video Scriviti al canale Grazie.